A Bologna finisce 3-2. Il Bologna ha battuto il Cagliari per 3-2 in una partita, diciamo così, un po' rocambolesca. Il Bologna ha avuto, sì, più occasioni da rete, però il Cagliari è andato due volte in vantaggio. Prima nel primo tempo con Joao Pedro e poi nel secondo tempo con Simeone. Poi un blackout, un blackout di pochi minuti che è bastato per i padroni di casa per andare sul 3-2 e poi mantenere il risultato fino alla fine, rischiando anche in alcune occasioni di andare sul 4-2. Mentre Cagliari in quel momento lì ha perso un po' la bussola, nonostante l'ingresso di Unas abbia consentito di avere un po' di verve in attacco che prima non c'era. Andiamo ai promossi e bocciati di questa partita. Il primo promosso è Joao Pedro. Joao Pedro perché, insomma, sono cinque gol, vede la porta, segna alla fine di un'azione strepitosa, forse una delle migliori degli ultimi anni del Cagliari, segno del lavoro che viene fatto in fase avanzata di Francesco e dai suoi collaboratori. Joao messo più vicino alla porta, sta segnando, sta convincendo, nel momento in cui è stato spostato poi verso l'esterno è completamente sparito dal campo. L'altro promosso è Simeone, anzi si può dire che viene promosso l'attacco perché anche Simeone va al quinto gol in sei partite, quindi una buona media per i due attaccanti dei Cagliari, dieci gol in due. segna sempre, c'è, fa un pressing ordinato, riesce ad esserci in ogni azione e questo è un bene per i Cagliari, significa che il ragazzo sta bene e che può dare una mano alla manovra in maniera solida e trova poi anche il gol che dà il 2-1. Tra i bocciati oggi ce n'è uno solo e mi va a rimettere proprio di Francesco. Perché? Perché Cagliari ha sempre gli stessi difetti, fa sempre gli stessi errori, prende troppi gol, siamo a due gol di media partita più o meno, e questo non va bene, perché può capitare magari con il Crotone di segnarne uno o due gol in più, in questo caso non si è arrivato al pareggio. E oltre alle difficoltà difensive, ma anche a centrocampo, perché in effetti due gol sono dovuti soprattutto alla mancanza di copertura da parte di Rogue Marine, che evidentemente non riescono ancora a seguire i dettagli dell'allenatore. Ma l'allenatore è andato anche in confusione nel secondo tempo, quando ha cercato di snaturare un po' la squadra, di mettere Cerri e Pavoletti a pestarsi i piedi tra di loro, in una soluzione che non è mai stata provata in partita, probabilmente in allenamento, però in partita no. ed è molto difficile che funzioni quando non è mai stato provato in una situazione del genere. Purtroppo non avevamo altri esterni da mettere, quindi Cerri era quasi una soluzione obbligata, però in effetti non è stata una grossissima soluzione poi per rigirare la partita. e si è visto, visto che o un'assa un po' predicato nel deserto. È un peccato, è un peccato perché Cagliari era partito molto bene, ha fatto la partita per buona parte del primo tempo, ha saputo segnare due gol e questo va molto bene, perché vuol dire che Cagliari trova la porta con estrema facilità. Poi però in difesa ci sono i soliti problemi, perché comunque Varokievic ieri ha trovato una giornata storta, perché Godin continua ad avere i soliti problemi in copertura. Zappa non è assistito benissimo dai centrocampisti, l'unico che si può salvare è Lico Giannis, che è stato saltato forse uno o due volte, ma per il resto è stato diligente, ha fatto ripartire l'azione per il primo gol, ha dato buoni spunti, quindi in effetti il greco si sta rivelando la sorpresa di questa difesa. Dunque per la prossima partita con la Samp di Francesco dovrà lavorare tantissimo su quel lato lì, dovrà lavorare tantissimo per chiudere soprattutto in mezzo, e per far capire a Varokievic e a Godin come chiudere per bene la difesa, anche perché Cragno non può fare gli straordinari come sempre. Ieri purtroppo ha preso tre gol, ma è riuscito a pararne altri 4-5 e quindi in qualche modo bisogna registrare la fase difensiva.